Grazie tante. Lode e ringraziamenti sino al nostro Signore per la sua grazia e fedeltà. Per la vivente speranza che noi abbiamo e la speranza che abbiamo non ci renderà confusi. La speranza troverà compimento, fede, speranza e amore. Questi tre ci appartengono. Anch'io vorrei dare il benvenuto ad ognuno di voi e allo stesso tempo vorrei darvi saluti da molti fratelli. Fratelli dalla Romania, dall'Italia, dalla Svizzera, da oltreoceano, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, da ogni parte. I fratelli salutano tutti noi e ci augurano le benedizioni di Dio. In particolare dal Sud America fino a 300 chilometri a sud di Santiago ed anche noi salutiamo loro da questo luogo. Noi siamo felici che possiamo radunarci insieme, che possiamo usare il tempo, che possiamo recuperare il tempo. È un tempo caro, un tempo prezioso. E come tutti noi sappiamo il tempo della grazia giunge alla sua fine. Noi non vogliamo andare oggi nei segni del tempo. Così tanto abbiamo compreso quando il nostro Signore in quel tempo ha detto quando vedrete Gerusalemme circondata allora i credenti dovranno fuggire sui monti della Giudea. e la storia racconta che tutti quelli che seguirono il Messia quando videro che i potenti eserciti circondarono Gerusalemme essi lasciarono la città e non perirono. Ed io penso alla parola del nostro Signore per questo tempo. quando vedrete accadere queste cose specialmente anche i negoziati in merito a Gerusalemme e tutti voi sapete cosa intendo dire quando vedrete accadere tutte queste cose allora rialzate i vostri capi perché sapete che la vostra redenzione è vicina. a gennaio abbiamo avuto delle belle riunioni a Gibilterra ed anche in Spagna noi ringraziamo Dio che Egli chiama fuori e si rivela ai Suoi. Naturalmente abbiamo lo stesso messaggio che portiamo ed abbiamo ascoltato nei due brani che ci sono stati letti abbiamo già ascoltato noi non falsifichiamo la parola di Dio la lasciamo nell'originale e diciamo realmente quello che Dio dice nella Sua parola. lì il fratello Branham una volta ha fatto una dichiarazione in merito al dono della profezia ed ha detto ciò che segue se io vi dicessi che il fratello Cox ha detto questo e quello ma il fratello Cox non mi avesse detto nulla allora io lo direi soltanto così ecco come accade certe volte con il portatore del dono il fratello Branham ha affermato ha detto che la profezia è genuina soltanto se qualcuno ha realmente ascoltato la parola del Signore nella realtà allora si può dire così dice il Signore è chiaro questo lo ripeto di nuovo se io dicessi il fratello Kramer ha detto questo e quello e il fratello Kramer non mi avesse persino parlato è impossibile così ma se egli mi parla allora io ascolto la sua voce e dopo ripeto quello che egli ha detto il tempo è realmente giunto di piazzare ogni cosa biblicamente e che Dio abbia la sua via con ognuno di noi nella parola che ha letto il fratello Smith nel verso 3 dice nel verso 3 dice Tito capitolo 1 verso 3 e che nei tempi stabiliti ha manifestato la sua parola mediante la predicazione nel tempo stabilito in quel tempo che Dio ha stabilito mediante la predicazione che mi è stata affidata per comando di Dio nostro Salvatore se non ci fosse un incarico se non ci fosse un incarico se non ci fosse una chiamata se non ci fosse un incarico come avrebbe detto allora Paolo che mi è stata affidata per comando di Dio nostro Salvatore e dopo noi ritorniamo indietro nel libro degli atti capitolo 9 in atti capitolo 22 in atti capitolo 26 e noi ascoltiamo le parole le parole che il Signore proferì a Saulo sulla via per Damasco la voce è che Dio e gli laudì con le sue orecchie e gli laudì questo fu dopo l'incarico al quale egli poteva riferirsi e il messaggio dell'ora egli poteva allora portarlo la stessa cosa è stata con il fratello Branham la stessa cosa è stata con tutti i profeti essi udivano la voce del Signore con le proprie orecchie nel cuore tutti noi ascoltiamo la voce di Dio ogni volta che egli ci parla attraverso la sua parola ma un incarico è una chiamata sono cose totalmente diverse e perciò se leggiamo simili parole qui egli ha manifestato la sua parola a tempo debito tramite la predicazione la parola che Dio ci ha affidato naturalmente è trasmessa tramite la predicazione e dopo ancora una volta l'enfasi che mi è stata affidata per comando di Dio nostro Salvatore questa non è una superbia questo non è gonfiarsi egli vuole semplicemente rendere chiaro ai credenti che io non parlo nel mio nome non parlo nel mio proprio incarico ma nel nome del Signore è tramite l'incarico divino il nostro soggetto è naturalmente sempre lo stesso il ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore è Redentore è la preparazione della Chiesa Sposa per il giorno glorioso del ritorno del nostro Sposo tutti noi sappiamo e questo dovrebbe essere detto di nuovo in ogni riunione anche nel nostro tempo e parlando con Paolo nel tempo convenevole Dio stabilisce il tempo Giovanni il Battista venne sulla scena al tempo stabilito per lui al tempo stabilito da Dio perciò le promesse dell'Antico Testamento sono diventate vere nel Nuovo Testamento e parlando con Galati capitolo 4 verso 4 quando il tempo fu compiuto fratelli e sorelle tutti noi sappiamo che ovunque in tutto il mondo cristiano essi parlano di soggetti cristiani parlano del soggetto della Deità sul soggetto della cena del Signore in merito al soggetto del Battesimo i soggetti sono dovunque gli stessi in ogni chiesa e denominazione e tutti dicono in merito allo stesso soggetto quello che vogliono dire o quello che vorrebbero adattare nella loro dottrina e tutti dicono qualcosa di diverso per lo stesso soggetto qui non può essere così qui dove mandare di scrittura in scrittura dall'Antico al Nuovo e dal Nuovo all'Antico dai Vangeli alle Epistole nel Libro degli Atti per ricevere continuamente la risposta divina dalla Sacra Scrittura noi abbiamo alcune scritture che vorrei condividere con voi e dopo oggi ho con me un sermone del fratello Branham gli ultimi cinque sermoni che il fratello Branham ha predicato nel dicembre 1965 li ho scelti per leggere qualcosa da essi il primo fine settimana gli ultimi cinque sermoni dalla bocca del fratello Branham e io devo dirvi che sono sopraffatto con quale tipo di precisione egli ha parlato e che genere di soggetti per esempio il soggetto del rapimento come era diventato grande per lui e come egli ne ha parlato nei dettagli tuttavia prima che veniamo a ciò brevemente lasciate che a causa di quei fratelli che non rimangono tranquilli in tutto il mondo a motivo delle interpretazioni della scrittura ora proprio brevemente lasciatemi leggere alcune scritture innanzitutto Giovanni capitolo 14 ben conosciuto a tutti noi Giovanni capitolo 14 qui abbiamo la promessa che il Signore ci ha dato per mezzo della sua della sua grazia che egli sarebbe andato a preparare un posto e poi sarebbe ritornato per portarci a casa Giovanni capitolo 14 in realtà non si dovrebbe leggere più tutti lo conoscono versi 2 e 3 nella casa del Padre mio ci sono molte dimore se no ve lo avrei detto io vado a prepararvi un posto e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto ritornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi la promessa e la descrizione sono chiare un luogo preparato nella casa del Padre mio ci sono molte dimore io vado a prepararvi un posto tutti noi noi aspettiamo di essere portati a casa di essere con il Signore per sempre come egli prepara un posto per noi così anche noi dobbiamo essere preparati dobbiamo essere pronti quando egli verrà come sposo per portare la sua sposa a casa dobbiamo essere pronti ora la parola ben conosciuta giusto per toccarla in Matteo capitolo 25 e dobbiamo realmente prestare attenzione ad ogni parola Matteo capitolo 25 qui abbiamo il testo davanti a noi dal verso 1 al verso 13 leggo solo il verso 10 ora mentre quelle andavano a comprarne arrivò lo sposo le vergini che erano pronte entrarono con lui per le nozze e la porta fu chiusa nel Vangelo di Marco abbiamo un collegamento totalmente diverso lì non si parla di sposo né di vergini leggiamolo così come è scritto qui nel Vangelo di Marco capitolo 13 dal verso 24 ed è così importante veramente importante con gli insegnamenti della Bibbia avere chiarezza in merito alla sequenza e vedere pure di cosa si tratta Marco capitolo 13 verso 24 ma in quei giorni ma in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore per renderlo chiaro ora si tratta che da Marco capitolo 13 verso 35 è interpretato è interpretato in modo errato in confronto a Matteo capitolo 25 è interpretato in modo errato e qui viene ciò che segue in Marco capitolo 13 verso 35 vegliate dunque perché non sapete quando il padrone di casa verrà non lo sposo il padrone di casa viene se di sera a mezzanotte al cantar del gallo o al mattino con questo Matteo capitolo 25 non ha nulla che vedere poiché ora egli viene dopo la cena delle nozze ed io ve lo leggo è proprio così importante sapere dove appartiene qualcosa per noi non ha importanza se egli viene di mattina presto o a mezzogiorno l'importante è che noi partecipiamo a ciò e se siamo sparsi in tutta la terra allora da una parte della terra può essere mattina e dall'altra parte della terra può essere tarda sera e da qualche parte può essere pure mezzogiorno oppure persino mezzanotte i fratelli ora vogliono dividere ciò vogliono dividere il tempo la mattina da quest'ora a quell'ora il mezzogiorno da qui a là e dopo via dicendo no quello che è scritto qui si adempie in un solo giorno non in un periodo di tempo ma in un solo giorno come il ritorno di Gesù Cristo al luogo pure in un solo giorno vale a dire due saranno in un letto uno sarà preso voi conoscete la scrittura ora specialmente per dare enfasi il tempo della sera il fratello Brana ha parlato alcune volte in merito al tempo della sera tuttavia lasciate che vi legga dal profeta Zaccaria in quel collegamento in cui appartiene ma che può essere usato anche nel nostro tempo tuttavia ciò appartiene in quel collegamento secondo Zaccaria capitolo 14 Zaccaria capitolo 14 leggo qui il verso 3 è la prima parte del verso 4 Zaccaria capitolo 14 verso 3 prima parte poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli olivi che sta di fronte a Gerusalemme a oriente ora versi 6 e 7 in quel giorno in quel giorno quando questo accade verso 6 in quel giorno non ci sarà più luce gli astri brillanti riteranno il loro splendore sarà un giorno unico conosciuto dal Signore non sarà né giorno né notte ma verso sera ci sarà luce e dopo dice nel verso 8 quello che accadrà pure quando ci sarà luce al tempo della sera tuttavia profeticamente si può usare questa parola si può parlare del tempo della fine si può parlare del tempo della sera si può parlare della mezzanotte si possono usare termini biblici tuttavia non si possono togliere dal contesto ma bisogna lasciarli lì dove sono per esempio in Luca capitolo 24 verso 29 i discepoli dissero Signore rimani con noi perché si fa sera al tempo della sera il Signore veniva nel giardino dell'Eden per avere comunione con Adamo ed Eva e se il fratello Brana ha parlato del tempo della sera allora egli intendeva la fine del giorno della salvezza come Paolo ha scritto in seconda Corinzi capitolo 6 questo è il giorno della salvezza e il giorno della salvezza giunge alla sua fine questo tutti noi abbiamo compreso quello di cui si tratta è ciò che segue che nessuno ha il diritto di interpretare la Bibbia privatamente dire il tempo del fratello Brana era questo e quello è il tempo del fratello Frank è questo tempo ed ora è il periodo di tempo per questo uomo questo non è giusto questo è impossibile Dio completa la sua opera Dio ha il suo piano non c'è altro modo noi non possiamo dividere ciò in anni e settimane dobbiamo lasciarlo come Dio lo fa e quello che gli fa è fatto sempre in modo giusto ora quattro scritture che ci mostrano come alla fine vale a dire ogni cosa è stata decisa da Dio stesso prima della fondazione del mondo noi siamo stati portati in questo piano di salvezza per mezzo della sua grazia e di questo si tratta questo assoluto la piena certezza che ora crediamo Dio che siamo stati scelti e predestinati prima della fondazione del mondo a credere la parola dell'ora e partecipare a quello che il Signore ha preparato per noi ci sono altre scritture nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 17 Giovanni capitolo 17 qui abbiamo la preghiera del nostro Signore conosciuta come preghiera sacerdotale Giovanni capitolo 17 verso 24 Padre io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati affinché affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo a questa parola appartiene primo pietro capitolo 2 primo pietro capitolo 2 e qui leggiamo dal verso 18 prima leggiamo primo pietro capitolo 1 dal verso 18 sapendo che non con cose corruttibili con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri ma con il prezioso sangue di Cristo come quello di un agnello senza difetto né macchia già designato prima della creazione del mondo e gli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi prima della fondazione del mondo quando non c'era nulla Dio decise già ogni cosa dopo abbiamo la parola qui in primo pietro capitolo 2 primo pietro capitolo 2 verso 10 per mostrare ai veri credenti che quello che Dio ha fatto è valido per tutte l'eternità primo pietro capitolo 2 verso 10 voi che prima non eravate un popolo ma ora siete il popolo di Dio voi che non avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia Efesini capitolo 1 verso 4 Efesini capitolo 1 verso 4 e allora che in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore verso 5 avendoci avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà. Questa è la decisione di Dio. Prima della fondazione del mondo, Dio ha deciso in merito a questo pieno di salvezza. Fino al libro dell'Apocalisse, capitolo 13, qui dice nel verso 8, Apocalisse, capitolo 13, verso 8, e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, l'Anticristo, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Dunque, lì può riposare la nostra fede. Prima che fossimo qui, prima che avesse luogo la caduta, prima che fossero creati Adam e Eva, prima della fondazione del mondo, Dio aveva deciso il suo piano di salvezza. Prima della fondazione del mondo, i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello. Prima della fondazione del mondo, l'agnello di Dio fu predestinato a morire per noi. E che noi ricevessimo in lui l'adozione di figli. Di cosa si tratta ora? Si tratta che noi rispettiamo la parola di Dio, che la crediamo, affinché possa diventare vera con noi e attraverso di noi. Diciamolo apertamente. Chiunque non può credere, come dice la scrittura, avrà grossi problemi ad andare avanti con Dio. Il momento è proprio qui ora di essere d'accordo con Dio e quello che Dio dice prenderlo per noi stessi. E qui c'è la meravigliosa parola in riferimento ad Abramo. Credo sia in Romani, Romani capitolo 4, Romani capitolo 4, qui ci è mostrato Abramo l'uomo della fede, che non ha guardato alle cose visibili, che non ha guardato alle circostanze, non ha guardato a se stesso né a Sara, ma ha guardato all'invisibile come se lo vedesse. Perché la promessa era stata data. Romani capitolo 4, leggiamo solo i versi 19 e 20. e non essendo affatto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto, avendo egli quasi cent'anni, né al grembo già morto di Sara. e gli scoprì che era un dato di fatto, poiché la promessa era stata data a lui. Leggiamo il verso 20, non di meno, non di meno, egli vide la sua anzianetà, egli vide l'impossibilità, non di meno, parlando con le parole del Salmo, non di meno, neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Questa è la mia posizione, la vostra posizione, questa è la mia e la vostra predestinazione. Sebbene vediamo intorno a noi una o altre cose, sì, e forse vi domandate sarà possibile se Dio ha dato una promessa allora egli veglia su di essa e dopo egli adempie quello che ha detto. Qui l'abbiamo confermato nel verso 21 pienamente convinto che ciò che egli aveva promesso era anche potente da farlo. dove viviamo? Dove viviamo? Questo è un dono divino di chi riceve le promesse di Dio e le crede. È un dono divino che siamo pienamente persuasi vale a dire quello che Dio ha promesso lo farà pure. Egli è in grado di adempierlo e lì riposa la nostra fede. Noi l'abbiamo detto si tratta della chiamata fuori si tratta della preparazione della chiesa sposa di Gesù Cristo. questo è il comando dell'ora questo è lo scopo della parola che Dio ha dato per questo tempo. Qui il fratello Branham dice egli era la parola e la sposa deve essere pure la parola. Lasciatemi aggiungere qualcosa come Eva fu presa fuori da Adamo così il fianco di Gesù Cristo il figlio di Dio lo sposo delle anime nostre è stato aperto sulla croce del Calvario il sangue è sgorgato e la sposa è uscita dal suo fianco tramite la potenza di redenzione che ha avuto luogo sulla croce del Calvario e perciò Paolo in Efesini capitolo 5 poteva scrivere noi siamo carne della sua carne continuando il fratello Branham dice una parola deve essere aggiunta all'altra la giustificazione che predicò Lutero la santificazione che ha predicato Wesley il battesimo con lo Spirito Santo che è stato predicato dai Pentecostali la restaurazione dei doni ed ogni altra cosa appartiene a ciò una parola deve seguire l'altra germe dopo germe vita dopo vita affinché la sposa possa essere trovata nella perfetta immagine di Gesù Cristo il fratello Branham probabilmente pensava che ogni cosa produce secondo la sua specie così è già scritto in Genesi in ogni pianta in ogni seme c'era già il germe di vita ed ogni cosa che è stata seminata e piantata ha prodotto secondo la sua specie e qui si tratta che noi realmente tramite la nuova nascita dalla parola e per mezzo dello Spirito diventiamo figli e figlie di Dio e riceviamo la nostra adozione come figli dopo il fratello Branham continua ricordatevi che eravate un attributo eravate già parte dopo che abbiamo trovato queste cose e sappiamo che Cristo viene per la sua sposa c'è solo una domanda ora come entriamo nella sua sposa la domanda è come diventiamo la sposa egli è lo sposo come diventiamo la sposa la chiesa sposa in che modo dopo qui dice questa è la domanda molti dicono venite nelle nostre riunioni gli altri parlano di un certo tipo di battesimo gli altri dicono ancora qualcosa gli uni dicono tu devi parlare in lingue altrimenti non lo hai ricevuto gli altri dicono non c'è bisogno che parli in lingue gli uni dicono questo e gli altri dicono quello gli altri dicono tu devi danzare nello spirito tu devi e devi devi rallegrarti per riceverlo devi avere una sensazione e dopo e dopo abbiamo la domanda non quello che dicono le persone questo è pure in Matteo capitolo 16 questa è stata la domanda chi dice la gente che il figlio dell'uomo sia e dopo vennero varie risposte e poi giunse una sola risposta giusta e questa risposta venne tramite l'ispirazione tramite rivelazione da Dio stesso tu sei il Cristo il figlio del Dio vivente e di questo si tratta oggi il fratello Bran continua qui tutto ciò è buono tuttavia è ancora errato come può un uomo o una donna un figlio di Dio che è nato dallo spirito come può negare la parola di Dio è impossibile qui ancora una domanda come può un uomo o una donna un figlio di Dio che è nato dallo spirito di Dio come può negare la parola di Dio se Dio stesso la conferma e adempie quello che Gli ha detto continua si tratta di questo io l'ho promesso dice il Signore e ve l'ho mostrato l'ho reso chiaro ed accade essi devono essere consapevoli di ciò come poteva Cristo negare la sua propria parola se Cristo è in voi allora egli non può negare la sua stessa parola questo è molto chiaro per noi dunque i soggetti della Bibbia devono essere posti biblicamente non interpretazioni non spiegazioni solo ciò che dice la scrittura e il fratello Branham riprende un po' tutti qui oggi noi non chiediamo oggi quello che concerne tutti i carismatici o ciò che riguarda altre comunità che hanno i loro propri programmi oggi il Signore parla a noi e noi naturalmente veniamo da diverse denominazioni e generalmente c'è solo un comune denominatore e questa è la santa parola di Dio e questa ci deve essere rivelata dallo Spirito Santo dopo il fratello Branham fa di nuovo una domanda come entriamo in questo corpo di Cristo in primo Corinzi capitolo 12 dice per mezzo di uno Spirito tutti noi siamo battezzati in un corpo tramite il battesimo dello Spirito Santo se voi lo volete annotare è in primo Corinzi capitolo 12 verso 13 tramite uno Spirito tutti noi siamo battezzati in un corpo lo Spirito è la vita di Cristo in noi quello è giusto la vita di Cristo la vita di ogni seme porta il seme in vita ed egli la parola seme e dopo il fratello Branham chiede avete compreso voglia dare un passo avanti abbiamo compreso lo abbiamo sperimentato personalmente poteva Dio visitarci in tale maniera che realmente la sua opera di redenzione è avvenuta in noi ricevetelo per fede accettatelo stasera è una sera speciale e nessuno di noi se ne andrà a mani vuote il Signore Dio il Signore Dio ha deciso non solo di parlarci e mostrarci la serietà egli ha deciso di benedirci ora nella pagina successiva dice io leggo e gli parla dell'albero se questo albero porta un ramo originale se un albero d'arance produrrà arance se Dio fa qualcosa nella Chiesa allora sarà in accordo con la parola originale deve essere in questa maniera perché la vita è nell'albero e produce secondo la sua propria specie e dopo il fratello Branham va in Giovanni Capiolo 15 tutti voi sapete che la grande Chiesa nel corso della storia ha portato frutto e quando i rami non portano frutto sono recisi Giovanni Capiolo 15 non è stata recisa la vite ma egli ha reciso solo questi tralci che non portano più frutto naturalmente in vista di tutte le denominazioni tutte le comunità cristiane che un tempo portavano frutto che venivano dal risveglio ma il ricordo del risveglio non aiuta i metodisti o i battisti oppure i mente costali questo non ci aiuta oggi noi abbiamo bisogno della presenza di Dio e dell'opera dello Spirito Santo di questo abbiamo bisogno oggi dopo continua qui Gesù vuole avere frutto per se stesso dopo dice qui la sua sposa la sua Chiesa deve produrre tali figli così come egli è perciò la parola seme è seminata nella Chiesa affinché i figli e le figlie di Dio possano nascere di nuovo possano apparire come scritto qui e dopo se non ci sono tali figli se non ci sono figli dalla parola se non sono prodotti in tale maniera allora sono figli della denominazione sì e questo è giusto che bene regano tutte le associazioni in qualche tipo di denominazione il Signore dice io sono la vita voi siete i tralci e di questo si tratta che realmente la vita divina possa essere manifestata nella nostra vita ora viene qualcosa di veramente importante e qui il fratello Branham si riferisce ad Enoch Enoch il quale fu rapito il soggetto principale è il rapimento in primo luogo il fratello Branham dice qui la parola di Dio è l'originale è la parola e deve essere manifestata al tempo stabilito da Dio al tempo stabilito dal Padre deve produrre secondo la sua propria specie ora la domanda come entriamo nella Chiesa ancora una volta tramite uno Spirito tutti noi siamo battezzati in questo corpo che è la sposa la parola entrambi Chiesa corpo parola e sposa ed ora veniamo ad un punto veramente critico ed io leggo ancora una volta ora vogliamo vedere se viviamo nell'ultima epoca oppure no se leggiamo in Genesi capitolo 5 o anche nel Vangelo di Luca nel capitolo 3 allora possiamo vedere che Enoch era il settimo da Adamo e dopo il fratello Branham dice non mi piace molto ma non voglio tralasciarlo lì il fratello Branham dice qui tocchiamo la semenza del serpente poiché Caino se Caino fosse stato il figlio di Adamo allora Enoch doveva essere l'ottavo non è scritto in alcuna scrittura che Caino era il figlio di Adamo la Bibbia dice che egli era dal maligno primo Giovanni capitolo 3 verso 12 Adamo naturalmente non era il maligno ma Caino era dal maligno ora questi brani qui abbiamo visto che Enoch era il settimo da Adamo era un simbolo di questa epoca della Chiesa i primi sei morirono ma Enoch il settimo fu trasferito Enoch fu rapito questo è un accenno che il rapimento avrà luogo nella settima epoca della Chiesa e non c'è dubbio al riguardo che noi ora viviamo nella settima epoca della Chiesa e qui il fratello Branham dice questo tutti noi lo sappiamo sì questo è giusto noi lo sappiamo per tutti quelli che non sono molto familiari e con quello voglio realmente leggervi dalla Bibbia affinché sappiate una volta per tutte che è la verità ora prendo alcune scritture molto brevemente Genesi capitolo 5 dal verso 1 giusto il verso 1 e dopo il verso 3 verso 1 questo è il libro della discendenza di Adamo nel giorno in cui Dio creò l'uomo lo fece a somiglianza di Dio verso 3 Adamo Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza conforme alla sua immagine e lo chiamò Seth verso 6 Seth visse 105 anni e generò Enosh verso 9 Enosh visse 90 anni e generò Kenan verso 12 Kenan visse 70 anni e generò Mahalalel verso 15 Mahalalel visse 65 anni e generò Jared e Jared dopo che ebbe generato Enosh visse 800 anni Enosh il settimo da Adamo ora andiamo nell'antico testamento andiamo in cronache primo cronache capitolo 1 verso 1 c'è la lista Adamo Seth Enosh Kenan Mahalalel Jared Enoch e dopo viene Metushala Lamech Noe Sem Kam e Japheth nel Nuovo Testamento abbiamo la lista all'indietro in Luca capitolo 3 l'ultimo verso Luca capitolo 3 l'ultimo verso qui dice ciò che segue sì forse leggiamo i versi 37 e 38 figlio di Matusala di Enoch di Jared di Malael di Kainan di Enosh di Seth di Adamo di Dio non si trova realmente in alcun archivio e se vogliamo leggere nel Nuovo Testamento in Giuda è pure scritto là Enoch il settimo da Adamo per noi questo non è un punto da dibattere ma ci mostra la discendenza ci mostra chi ritorna indietro a Dio chi ritorna indietro ad Adamo è come deve essere piazzato lettera di Giuda è un solo capitolo verso 14 lettera di Giuda verso 14 anche per costoro profetizzò Enoch settimo dopo Adamo dicendo ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi lasciamo questo soggetto e ritorniamo brevemente a ciò di cui si tratta ora in particolare nel sermone il rapimento il fratello Branham ha parlato in modo molto chiaro qui egli ha parlato con enfasi e perché affinché nessuno di noi manchi la meta ma che tutti noi raggiungiamo la meta che tutti noi possiamo fare le esperienze con Dio e per fede andare avanti come abbiamo letto nella lettera ai Romani facciamo come ha fatto Abramo di non guardare le cose visibili di non guardare al nostro corpo né al corpo degli altri non alla nostra debolezza non alla debolezza degli altri non ai nostri errori non agli errori degli altri ma guardiamo a colui che ha dato la promessa affinché non siamo svergognati ma che possiamo credere con tutto il nostro cuore che riceviamo e raggiungiamo la nostra meta vale a dire essere pronti al ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore il nostro Sposo per favore ricordate le quattro scritture che riportano che trattano che noi prima della fondazione del mondo siamo stati scelti l'eredità di Dio tramite predestinazione secondo il piano di salvezza che egli ha deciso prima della fondazione del mondo e questo è immutabile irreversibile ecco come Dio ha deciso ecco come Dio ha deciso ed ecco come avrà luogo per tutte le eternità e se il nostro Signore dice io vado a prepararvi un posto e ritornerò di nuovo per ricevermi presso di me allora egli verrà di nuovo allora Egli ha preparato il luogo ed ora Egli ci chiama fuori ci prepara finché noi quando Egli ritornerà andremo nella gloria con Lui ora per tutti i fratelli che hanno problemi a distinguere questo leggo in chiusura leggo due scritture una da primo corinzi capitolo 4 dove è descritto il ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore quando Egli verrà con le nuvole o quando ci porterà sulle nuvole primo Testalonicesi capitolo 4 verso 17 poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore il rapimento non sarà una dottrina il rapimento sarà un fatto il Signore ritornerà la tromba suonerà la voce dell'Arcangelo egeggerà ed Egli ritornerà dopo abbiamo in Primo Testalonicesi capitolo 5 verso 23 qui dice Primo Testalonicesi capitolo 5 verso 23 ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente e l'intero essere vostro lo spirito l'anima il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo fedele è colui che vi chiama ed Egli farà anche questo l'altra venuta quando non si tratta dello sposo e della sposa non in merito alla cena delle nozze noi l'abbiamo nel capitolo successivo seconda testalonicesi capitolo 1 e qui dal verso 7 seconda testalonicesi capitolo 1 verso 7 e a voi e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù questo è naturalmente una venuta totalmente diversa che non ha nulla a che fare con il ritorno di Gesù Cristo e con lo sposo che porterà a casa la sua sposa niente a che fare dunque possano i nostri fratelli vedere che la parola di Dio deve essere condivisa in modo esatto che deve essere piazzata là dove appartiene portandola nel giusto contesto Matteo capitolo 25 ha il suo posto ordinato da Dio ed anche Luca capitolo 2 Luca capitolo 12 Marco capitolo 13 tutte le scritture della Bibbia hanno il loro posto noi dobbiamo leggerle soltanto lentamente ed averle rivelate per sapere dove appartiene una certa cosa avete notato qui in seconda Tessalonicesi parla soltanto della parola venuta e in primo Tessalonicesi parla del ritorno del nostro Signore io ritornerò ritornerò per accogliervi presso di me ci sono parole chiave nella Sacra Scrittura e queste parole chiave le dobbiamo trovare per vedere i misteri per avere accesso ai misteri leggiamo di nuovo questo verso in primo Tessalonicesi capitolo 5 verso 23 or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro lo spirito l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo fino al ritorno del nostro Signore Gesù Cristo noi crediamo che così come è scritto così accadrà fratelli e sorelle prendete coraggio il fratello Branham ha dovuto portare questo serio messaggio affinché noi fossimo svegliati affinché operiamo la nostra salvezza con riverenza e timore affinché facciamo le nostre esperienze con Dio affinché nessuno manchi quando il Signore porterà i suoi a casa ogni cosa a suo tempo come abbiamo già letto in Tito al tempo stabilito quale potente parola anche per il nostro tempo per favore leggete tutto ancora una volta al tempo stabilito è scritto qui lo leggo ancora una volta Tito capitolo 1 verso 3 innanzitutto parla degli eletti di Dio forse leggiamo dal verso 1 Paolo servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà alla pietà questo è un potente riassunto ed è bello che è vero verso 2 nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire prima della fondazione del mondo egli l'ha promesso prima che il tempo iniziasse egli l'ha promesso e dopo egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio nostro Salvatore il fratello Branham aveva un diretto incarico una chiamata e un messaggio e questo messaggio con tutte le promesse con tutto ciò che va con quello dopo la sua dipartita è stato portato in tutto il mondo noi siamo testimoni di questo e siamo riconoscenti che Dio anche per il nostro tempo ha una parola per il nostro tempo ed ora tramite la predicazione tutto il consiglio del nostro Dio è proclamato e predicato così come è stato deciso prima della fondazione del mondo fratelli e sorelle lasciate che sia detto nel nome del Signore la sorte è caduta per noi il Dio Nipotente nel nostro tempo ci ha visitati è sceso e gli si ricorda del suo patto si ricorda della sua parola si ricorda delle sue promesse si ricorda del suo popolo ed egli ci ha visitati in modo meraviglioso ed egli ci ha dato l'ultimo messaggio il messaggio della chiamata fuori e della preparazione della chiesa sposa fino al giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo il nostro Signore il Signore Dio ci benedica e sia con tutti noi amén alziamoci in piedi per pregare forse abbiamo qualche richiesta che possiamo portare al Signore c'è una particolare richiesta di preghiera anche questo va con ciò che quelli che sono aggravati e stanchi vengano al Signore non solo l'insegnamento non solo la parola della profezia ma anche l'evangelizzazione la proclamazione del pieno Vangelo di Gesù Cristo il nostro Signore la salvezza dell'anima la liberazione dello spirito la guarigione del corpo ogni cosa è avvenuta per noi sulla croce del Calvario l'opera di redenzione è compiuta nessuno ha bisogno di essere perduto ma tutti possono venire al Signore tutti possono trovare grazia tutti possono credere la sua parola e rendere certa la loro chiamata elezione e predestinazione rinnovando il patto con Dio e consacrando la loro vita pienamente al Signore questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi cantiamo ora questo coro cantiamolo in preghiera questo è il giorno questo è il giorno il giorno Grazie a tutti. Il tempo è avanzato, la mezzanotte è qui e il mattino viene come scritto nel profeta Isaia capitolo 21. Sentinella, a che punte la notte? Sentinella, a che punte la notte? Viene la mattina e viene anche la notte. O potremmo essere riconoscenti, fratelli e sorelle, ora voglio dirlo a voi in tutto il mondo. Come possiamo essere riconoscenti di ascoltare la parola di Dio in riverenza, che possiamo leggerla e predicarla in riverenza. E la parola di Dio è diventata così preziosa per noi e ci viene rivelata nei più piccoli dettagli per mezzo della sua grazia. Naturalmente Dio ha usato gli apostoli duemila anni fa. Nel nostro tempo, egli ha usato il fratello Branham per riportarci indietro all'originale, all'inizio e portarci in conformità con la parola di Dio. Proprio alla fine, la sposa e lo sposo devono essere d'accordo. La parola e lo spirito devono concordare. Parlando con Primo Giovanni, capitolo 5, verso 7-8. Questi tre sono uno, la parola, lo spirito e il sangue. E lo spirito opera nel greggio riscattato tramite il sangue. Rivela la parola e ci guida di chiarezza in chiarezza. Siamo veramente riconoscenti a Dio. Veramente riconoscenti. Al tempo suo stabilito, egli manifesta la sua parola. Rivelata alla fine del tempo della grazia. Aprendo i nostri occhi per l'adempimento delle profezie della Bibbia. Aprendo i nostri occhi per il messaggio dell'ora. Aprendo i nostri cuori per ricevere ogni cosa che Egli ha da dirci. Avendola rivalata dallo Spirito Santo. Il nostro Dio è un Dio fedele. A Lui appartiene tutto l'onore e la lode. Ora e per sempre. Cantiamo Diamo tutta la gloria a Gesù. Diamo la gloria a Gesù. Diamo la gloria a Gesù. Io lo amo, io lo amo. Io lo amo, io lo amo. da smi che mi sta mentre abbiamo i nostri capichini mentre cerchiamo la comunione con il nostro dio e mentre la troviamo tutti voi lo sapete fratelli e sorelle nel sermone dio parla a noi attraverso la sua parola nella preghiera noi parliamo con dio a causa del sermone che abbiamo ascoltato ricordiamoci di abramo e gli guardò all'invisibile egli era pienamente convinto che dio avrebbe adempiuto tutto quello che aveva promesso ed è scritto egli non vacillò a motivo dell'incredulità il dubbio produce incredulità e conduce nell'errore la fede e il credere è la potenza di vittoria e così noi crediamo come dice la scrittura e sperimenteremo la vittoria di dio tutti i nemici saranno resi lo sgabbello del signore gesù cristo il vincitore che ha vinto la morte che ha vinto l'inferno egli avrà la sua vittoria e manifesterà la sua vittoria nella sua chiesa ecco come è stato deciso nel consiglio del nostro dio e così ringraziamo il signore dio che non c'è una coincidenza in quello che dio fa ma è una decisione che dio ha fatto prima della fondazione del mondo anche per il fatto che noi ora ascoltiamo la parola stabilita per questo tempo il messaggio divino con tutte le promesse con ogni cosa che va con l'insegnamento la profezia ciò che va con esso tutto questo dio ce lo ha dato per grazia fratelli e sorelle io vi chiedo sono state le persone ad insegnare in questo luogo oppure dio ci ha ammaestrato per mezzo della sua parola tramite la rivelazione del suo spirito dio l'ha fatto perché il suo spirito regna in mezzo a noi anche ora anche ora anche ora cantiamo vieni dall'alto vieni spirito del signore la parola Rausche und wehe, oh, bleib' nicht fern, göttliches Feuer, falle berat. Du bist uns teuer, himmlische Gart, alle zusammen, tief aus der Höhe. Das Heilige Flammen hat uns zu sehen, das Heilige Flammen hat uns zu sehen. Amen. 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 Per favore alzate le vostre mani se è così. Del continuo ci sono richieste di preghiera che noi possiamo portare al Signore Dio e vogliamo farlo per fede. Il sacrificio è stato dato. Gesù Cristo, come sommo sacerdote, è andato con il proprio sangue nel luogo santissimo. ha posto il sangue sul seggio di grazia. Non c'è più nulla che possa condannarci o accusarci. Noi siamo stati affrancati per mezzo del sangue. La lettera d'accusa è stata strappata. Dite con tutto il vostro cuore. La lettera d'accusa è stata strappata. Noi siamo perdonati. Dio ha compiuto la Sua opera. Alleluia. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la Tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo, Dio, che Tu, prima della fondazione del mondo, hai deciso l'intero piano di salvezza e che noi in questo tempo siamo stati piazzati in questo piano di salvezza. Che grazia, che privilegio, che benedizione. Signore, abbi la Tua propria via. Rispondi a tutte le preghiere. Salva, guarisci, libera, benedici, battezza, battezza con lo Spirito Santo e col fuoco. Adempi la Tua parola adesso. Alleluia. Lodate il Signore. Glorificate il Suo Santo Nome. Ringraziate Dio. Ringraziate Dio. Alleluia. 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 Lode al Signore. Lode al Signore. Alleluia. 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 ooo 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 O è Gesù Ora vogliamo pregare per tutti i fratelli nel ministero che Dio dia loro chiarezza, che possano condividere rettamente la parola. Dio fedele, tu hai manifestato la tua parola al tempo convenevole, hai rivelato tutti i misteri e noi preghiamo per l'unità dei fratelli che predicano la parola, per l'unità nella Chiesa di Gesù Cristo. Caro Signore, metti fine all'opera del nemico, fai di lui il tuo sgabbello. O tuo vincitore del Golgotha, abbi la tua propria via con la tua Chiesa. Benedici in ogni lingua, in ogni popolo, su tutta la terra. La tua volontà sia fatta in cielo come in terra. Abbi la tua propria via con il tuo popolo, su tutta la terra. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. 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 Lodi a Dio. Lodi a Dio. Posso ognuno essere benedetto in tutto il mondo, anche qui dal lontano nord, dalla Finlandia a Palermo, dovunque. Dal Mar Nero al Mar Mediterraneo, posso ognuno essere benedetto nel nome del Signore. In ogni popolo e lingua, perché il Vangelo naturalmente sarà predicato a tutte le nazioni. E questo accade ora per grazia. A Lui l'Onnipotente Dio. Sono sincero. Non so come possiamo ringraziarlo. Ringraziare Lui per il grande privilegio di vivere adesso ed appartenere al piccolo gregge eletto. Questa è elezione. Questa è predestinazione. Questa è la grazia di Dio. La grazia di Dio manifestata nella nostra vita. Fratelli che predicate la parola in tutti i paesi circostanti. Il Signore Dio vi benedica. Possa benedire tutti i nostri fratelli in tutto il mondo. Per la gloria e per la lode del suo santo nome. Amen.